Una delle favole più conosciute e amate del mondo, quella di Biancaneve, compie 80 anni, o almeno la sua versione in pellicola. Nel 1937 usciva il film Biancaneve e i sette nani, targato Disney. Una mostra allo Wow Spazio Fumetto, Museo del Fumetto, dell'illustrazione dell'immagine animata di Milano, celebra l'anniversario. Negli anni sono stati tanti remake sul grande schermo che si sono susseguiti, sempre con grande successo. Segnale che la favola della dolce Biancaneve e dei simpatici sette nani commuove ancora.